Non diciamo il vincitore, diciamo la canzone vincitrice. Con la canzone vi lascio la pace. Loro sono i Carisma! Dove sono? Eccoli! Ecco il gruppo Carisma! Eccoli qua! Anche la band, eh? Anche la band? Ah, sono su, non li vedo il gruppo. Tutto bene? Bene, eccoci. E allora? Li ascoltiamo? Li ascoltiamo con grande piacere. Vi lascio la pace! Buonasera a tutti. Testimoniate io ho scelto voi perché il mondo creda che sono verità e via e vita vera. Io ho scelto voi perché portiate frutto ad ogni terra e ad ogni uomo che è nel dubbio. Se ho scelto voi, no, che non è un caso, avrete forza e porterete la mia parola al mondo intero. Vi lascio la pace, vi do la mia pace perché siate parte di me. Io ho scelto voi perché sia compimento la vita mia per voi. Io ho scelto voi perché sia compimento la vita mia per voi. e sia il vostro esempio per chi nel mondo e nella storia mi contraddice e ancora oggi qui che affondo i suoi chiodi nella mia croce. E vi lascio la pace, vi lascio la pace, vi do la mia pace perché siate parte di me. e lascio la pace a chi non mi conosce perché possa credere che io amo fino in fondo anche chi è nei sopporti del mondo. E vi lascio la pace, vi lascio la pace, vi lascio la pace, vi do la mia croce perché siate parte di me. E vi lascio la pace, vi do la mia croce perché siate parte di me. E vi lascio la pace, vi lascio la pace, vi do la mia croce per chi vuole vivere.